Parliamo di un argomento di interesse molto comune, la tutela del consumatore. Il consumatore è sostanzialmente sempre una persona fisica, così come definita da quell'insieme di norme che nel 2005 sono state raggruppate in un codice, il codice del consumo, che mira appunto a tutelare le persone, gli acquirenti che normalmente acquistano beni o servizi. Dall'altra parte la legge individua il professionista, cioè quella definizione che racchiude tutti i soggetti venditori, imprese e professionisti di beni o servizi. L'insieme di norme a tutela del consumatore è molto vasto e molto tecnico, come al solito individuiamo in estrema sintesi quelle che sono le norme e le accortezze da avere ben presenti che sono assolutamente fondamentali. Il codice del consumo pone prima di tutto dei divieti importanti ai professionisti venditori, il divieto di pratiche ingannevoli e aggressive, pratiche commerciali ingannevoli e aggressive nei confronti del consumatore. Potrà sembrare banale ma le sanzioni sono anche molto pesanti nei confronti dei professionisti che forniscono informazioni poco precise, poco accurate e quindi in sostanza ingannevoli per indurre i consumatori a concludere il maggior numero di affari e di acquisti possibili che in sostanza a seguito di una sorta di assedio costringono il consumatore a concludere degli affari senza avere la piena contezza e la piena convinzione della bontà dell'affare che stanno concludendo. Un altro versante molto importante che contempla il codice del consumo è l'avversione, il contrasto della pratica delle clausole vessatorie. Le clausole vessatorie sono quelle clausole contenute nei contratti che i professionisti predispongono per la conclusione degli affari che propongono in maniera standard ai consumatori e che pongono una serie di obblighi molto gravosi e molto pesanti dal punto di vista giuridico e di fatto in capo ai consumatori stessi. Possiamo pensare a, titolo di esempio, a limitazioni di responsabilità del professionista in caso di difetti o di malfunzionamenti o di difformità del servizio venduto, limitazioni delle azioni giudiziarie in capo al consumatore contro il professionista in queste eventualità, oppure l'obbligo di rinnovazione del contratto automatica una volta scaduto, oppure tempi molto lunghi per l'eventuale recesso. Queste sono tutte clausole che, come si può intendere, essendo molto gravose a carico del consumatore che è individuata come parte debole, contrattuale, possono essere radicalmente nulle o riconosciute tali nell'ambito del giudizio con rischio anche di condanna a risarciamento del danno per il professionista. Un aspetto molto importante che riguarda l'insieme, lo scenario della tutela del consumatore riguarda quella grande maggioranza di acquisti che vengono conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza. cosa vuol dire? Fuori dai locali commerciali vuol dire in tutte quelle occasioni in cui il consumatore non si reca appositamente in un negozio perché è interessato a una merce, quindi viene in mente in primo luogo la vendita a domicilio, la classica vendita porta a porta. oppure per quanto riguarda invece l'insieme dei contratti conclusi a distanza, quelli che vengono ormai conclusi telematicamente o anche telefonicamente. Abbiamo in questo caso da tenere ben presente che in tutti i casi in cui vengono conclusi acquisti di beni e servizi fuori dai locali commerciali o con tecniche a distanza, il consumatore gode del diritto di ripensamento, del diritto di recesso da esercitare entro 14 giorni dalla conclusione del contratto per quanto riguarda l'acquisto di servizi, mentre dal ricevimento del bene per quanto riguarda invece l'acquisto di beni. Il consumatore non sarà tenuto a fornire alcuna spiegazione per il ripensamento e per il recesso e non dovrà subire neanche le spese per l'invio della merce, che gli dovranno essere rifuse. Questo diritto di ripensamento, attenzione, non vale per gli acquisti effettuati in negozio. Questa è una grande differenza che bisogna tenere presente, non possiamo comprare una merce in negozio e ripensarci dopo 10 giorni, dopo qualche giorno perché la legge non lo consente, mentre vale per gli acquisti effettuati nei negozi il termine biennale di tutela legale, cioè in caso di difetti, malfunzionamento della merce acquistata, noi abbiamo la possibilità entro due anni dall'acquisto di farcela sostituire o riparare senza spese. Un ultimo aspetto molto molto importante di frequentissima presentazione è quello delle vendite cosiddette telefoniche. Ricordiamo che nonostante il consumatore possa ascoltare l'offerta telefonica fatta dall'operatore, aderire a tale offerta, egli sarà vincolato sempre e soltanto dopo che il professionista, il venditore invierà un riassunto dell'offerta e un contratto scritto al consumatore, all'indirizzo che il consumatore indicherà e il consumatore sarà vincolato realmente giuridicamente solo una volta che avrà sottoscritto il contratto cartaceo ricevuto appunto dal professionista che ha assolto quest'obbligo. In caso contrario non ci sarà alcun vincolo e sarà possibile agire per liberarsi da eventuali obblighi di pagamento che non sono dovuti.